La Calabria sta affrontando una crisi idrica allarmante con fonti d'acqua secco e reti idriche deteriorate che aggravano la situazione. La siccità unita alle infrastrutture inefficienti sta rendendo inevitabile il razionamento dell'acqua. I dati più recenti mostrano una situazione drammatica. La diga sull'Alaco, che serve il Vibbonese, è al 71,2% della sua capacità massima, mentre quella sul Menta, che rifornisce Reggio Calabria, è al 40%. Per un confronto, la diga del Menta era all'85 l'anno scorso e al 92% due anni fa nello stesso periodo. La società regionale di gestione delle acque, precisamente Sorical, ha avvertito Prefettura e Protezione Civile dei rischi imminenti, soprattutto con l'arrivo dei turisti. Di fronte a questo scenario è essenziale ridurre i prelievi d'acqua per assicurare la disponibilità di acqua stessa, potabile fino all'autunno.